Premio alla carriera Carlo Delle Piane, chi ha vissuto e attraversato la storia del cinema italiano. Non è stata una mia idea, anche perché ero talmente piccolo, 12 anni avevo. Fui scelto tra tanti bambini di quel periodo per il Ficuore e lì è iniziata la mia carriera. Ho fatto tutto un percorso del cinema, i vari commedia dell'italiana, i musicarelli, con tanti attori importanti, bravi, famosi, Totò, Fabrizzi, Sordi. Amo ancora il cinema e spero di continuare a farlo.